Il motivo del ritiro di Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul cancelletto Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi in onda ogni martedì su Canale 5. Le ultime novità svelano che sono stati rivelati i veri motivi che hanno costretto l'ex pugile pugliese ad abbandonare il gioco. Franco Terlizzi abbandona l'Isola 13 Le novità dell'Isola dei Famosi svelano che cancelletto Franco Terlizzi è stato accusato di falsità dalla maggior parte dei suoi colleghi dopo essere stato protagonista di discussioni al limite della decenza. Infatti c'è stato un furioso litigio tra l'ex pugile e Jonathan. Come abbiamo visto l'ex vincitore del grande fratello Cinque, aveva accusato Franco di averlo mandato al televoto al posto di Francesca Cipriani, ormai un abituè. L'Israeliano ha dimostrato di non avere apprezzato per niente le parole dell'ex pugile, tanto da definirlo come uno che mentre l'arbitro è distratto da un calcio sugli stinchi. A questo punto Terlizzi lo ha definito infame di M, un'affermazione confermata da Maurice, che ha mandato in orbita l'ex Jeffing. Purtroppo a rimetterci è stato il naufrago di Bitonto, che è stato accolto a pietre in faccia dal pallannotista che lo ha invitato ad assumersi le sue responsabilità, dopo quello che gli aveva detto. Infine Terlizzi ha mandato letteralmente al diavolo il cubano, accusandolo di essere un falso, tanto da minacciarlo di aspettarlo fuori dal programma per un confronto tra uomini. Isola 2018, Franco ha avuto un malore Gli ultimi giorni in Honduras si stanno rivelando ad alta tensione per molti naufraghi ormai stressati dalla fame. I più provati sono Amaurice e Franco Terlizzi. I due hanno perso moltissimi chili durante la permanenza sull'Isola 13, tanto da avere i nervi alle stelle. Infatti la discussione ha preso proprio una brutta piega tanto da finire quasi alle mani. Un distacco che sembrava incolmabile tra due naufraghi che si stimavano fino a qualche giorno prima. Ma ecco arrivare il colpo di scena, nel day time andato in onda oggi 2 aprile, abbiamo visto un riavvicinamento tra Franco e Amaurice. I due colleghi hanno deciso di metterci una pietra sopra dopo le parole che si erano detti il giorno prima. Ma se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso, in quanto una nuova tempesta si è abbattuta sull'Isola. Franco Terlizzi ha abbandonato il reality in seguito ad un malore che lo ha costretto a recarsi sulla terraferma per una serie di controlli medici. Infine i naufraghi hanno scoperto che l'ex pugile non potrà tornare in spiaggia, sebbene le sue condizioni di salute non destino preoccupazioni. Per altre notizie sull'Isola dei famosi vi basterà restare aggiornati sul sito Blasting News. .